Amava viaggiare e conoscere posti nuovi ed è morta durante una vacanza insieme alla sua famiglia. Margherita Salvucci, 28 anni, psichiatra originaria delle Marche, ma padovana d'adozione, è morta giovedì 27 giugno in Portogallo, travolta da un'onda anomale, mentre era con i genitori e la sorella sull'isola di Madeira. La giovane stava facendo il bagno in una delle piscine naturali caratteristiche della costa, circondata da rocce, quando all'improvviso si sono formate delle onde anomale. Mentre la sorella è riuscita a mettersi in salvo, Margherita è stata trascinata e risucchiata dalla forza del mare. I soccorsi hanno raggiunto la ragazza e hanno tentato di praticarla un massaggio cardiaco, ma è morta in ospedale. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi della madre, che stava scattando delle foto alle sue figlie. Margherita Salvucci era nata a Iesi, nelle Marche, ma si era trasferita a Padova per studiare. Nel 2021 aveva conseguito la laurea in medicina, poi la specialistica in psichiatria e la decisione di rimanere nella città del Santo per il suo percorso di dottorato nel reparto dell'azienda ospedaliera di Padova.